Un rilancio importante per la Salernitana e un altro stop per il Genoa, Genoa che ora rischia ancora perché Tiago, autore di una prestazione da dimenticare, ha perso palla al centrocampo, contropiede con Bombardini, 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 Bombardini 4-0, 4-0, cala il poker la Salernitana nella partita in cui forse meno c'era da aspettarselo.